Ragazzi, ragazzi, oggi siamo topolino, vabbè, ciao, ciao ragazzi, oggi siamo dei topi, topolini, però un po' più grandi Siamo in questo video per, visto che, scusate, per sbaglio ho messo il dito Visto che, ieri, ho imparato a nuotare, sì, lo so, a una certa età, imparare a questa età è un po' strano Però, visto che ho imparato, i miei genitori mi volevano ricompensare, diciamo E vi parlo di topolini, non criceti, ma più grandi Va bene, dai, ve lo dico Allora, sono i porcellini d'India, cioè le cave sudamericane Scrivete nei commenti, secondo te, secondo voi, come lo chiamerò Beh, qui ci saranno, ci saranno dei, scusate, ci saranno dei, come si dice, dei foglietti Sono uno, aspetta, sì, qua mi sono, qua mi sono fatto dei bigliettini su Minecraft Vabbè Guardiamo questo Bellissimi nomi Bellissimi nomi Nomi porcellini Scusate Allora Allora, quello che mi piace di più Questo Biscuit Io maschio che è femmina Vabbè, poi non ho messo più maschio e femmina Bianca Femmina Ariel, femmina Briciola Dixie Fanny Ginger Poi Qua Ce ne saranno altri Sì, questo sarà un video breve Vabbè, i topolini, mica sono grandi E qui c'è un altro topolino? Sì, sono topolino Vabbè, non lo so fare Adesso Ce ne sono altri Allora Qua Un altro Un altro Vabbè, Jackie Come può starsi? Poi lui Macchio lì Mimì Pepita d'oro di Minecraft Ogni volta, sì, sì Sicuramente Poi Perle Sì, sì Stavolta di diamante E puzzola Beh Ragazzi Adesso vediamo anche quelle di Minecraft Anche se non c'è tre niente Vabbè, sono poche Sono solamente tre Allora Il titolo Minecraft Casa moderna Condotto Golem Più Sì, perché Volevo creare una Una camera Una camera Dove facevo Gli esperimenti Gli esperimenti, ragazzi Forse avete capito Sulla menti Ciao, topolino E c'erano anche voi, ragazzi Vabbè, ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ah, aspetta Voi scrivete nei commenti Qual è il nome Che vi piace di più Tra questi Biscuiti Biscuiti Secondo me È quello mio preferito Biscuiti Non lo so perché Allora Vi dico Il sesso Di che sesso è Allora È Femina Sì, perché È più coccolosa E poi Basta Non lo so Biscuiti Sì Le persone Alcune persone Dicono Perché le persone Mettono I nomi maschi Nelle femmine Nei nomi femmine Nei maschi Beh, in realtà Così lo fanno tanto per Vabbè Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate 5 like E forse Vi farò vedere Il porcellino Solamente Anzi no Aggiungiamo Un like 6 6 like E vi farò vedere Il porcellino Beh Se lo volete vedere Beh ragazzi Sarà veramente bello Vabbè Ciao